Per la squadra di Petkovic, anche perché quattro passaggi, verticalizzazione e addirittura un difensore che accompagna centralmente in attacco l'azione. Ed ora Licksteiner con la palla che finisce dentro l'inserimento centrale, ancora lui protagonista, stavolta direttamente con misura, giustezza, tempismo, controlla e batte Buffon che perde l'uno contro uno. Era naturalmente difficile a quel punto per il portierone, con Marchetti naturalmente che perde l'uno contro uno, era difficile per il portierone della Lazio. Opporsi a Licksteiner che ha colpito ancora una volta, micidiale 1-2 in avvio di ripresa, Juventus 3, Lazio 0. Rivediamo l'inserimento in diagonale di Licksteiner che parte da destra, controlla e castiga la Lazio totalmente sbilanciata perché tutti sono andati verso il settore di sinistra, nella difesa della Lazio. Ancora Vucic dice una pennellata per Licksteiner che ha messo in condizione di andare sulla corsa, poi molto freddo davanti al portiere.